Fosse stato accettato con i suoi quarelli all'Accademia d'Arte invece di essere rifiutato, forse oggi avremmo un pittore mediocre in più, forse un pittore dimenticato, ma forse non ci sarebbe stata la Seconda Guerra Mondiale, è un inferno da vergognarci tutti per sempre di cui preferisco non parlare per rispetto. E chissà quante menti brillanti sarebbero rimaste in Europa invece che rifugiarsi in America. E l'America non avrebbe dovuto salvarci. E noi non avremmo dovuto firmare fra i vari accordi di ringraziamento quello di essere obbligati a doppiare film americani. Certo, oggi non avremmo i doppiatori meravigliosi, i più bravi al mondo che abbiamo, ma forse l'America non ci avrebbe così illuso dei suoi finti tramonti, inarrivabili, divi, sigarette, bibite gasate e zucchero filato. E cosa sarebbe successo se Cristoforo Colombo non avesse sbagliato rotta? Forse oggi in America, come presidente americano, avremmo un capo indiano. Manhattan, Manhattan sarebbe una distesa di Tendess U. Invece di Miss America ci sarebbe Miss Squaw. Hollywood, invece dell'Oscar, avrebbe un calumè della pace come statuetta. Hitchcock avrebbe continuato a fare film in Inghilterra e Ingrid Bergman non avrebbe inviato nessuna lettera a Rossellini scrivendo «Caro signor Rossellini, ho visto i suoi film Roma, città aperta e paesà e li ho apprezzati moltissimo. Se ha bisogno di un'attrice svedese che parla molto bene inglese, che non ha dimenticato il suo tedesco, non si fa quasi capire in francese e in italiano sa solo dire «ti amo». Sono disposta a venire in Italia a lavorare con lei. Che genio di seduzione!